Si ritorna a scuola? Eh sì! In classe iniziamo? La terza. La terza media? Sì, sì. L'ultimo anno prima di iniziare le superiori. Già, un po' nervosa. Di dove sei? Vallo. Come ti chiami? Yasmin. Abbiamo studiato quest'estate? Insomma, abbastanza, diciamo. Tu invece? Mi chiamo Anastasia. Sei di? Vallo. Abbiamo studiato un po' quest'estate? Sì, un po' direi. Ti inizia? Che classe fai? Devo fare la terza media, sì, vabbè. Abbiamo già iniziato. Abbiamo già iniziato, allora. Con quale animo siamo contenti, felici, un po' tristi? Un po' tristi. Un po' tristi. Ho paura per gli esami. Ah, siamo già in esami. Tu come ti chiami? Nicole. Di dove sei? Di Vallo. Che classe iniziamo? La terza media. La terza media? Allora, abbiamo studiato quest'estate? Sì. Sì? Ancora qualche giorno di vacanza poteva stare? Sì. È stata un'esperienza fantastica anche quest'anno, la solita ansia che purtroppo ci... Ah, il primo giorno? Il primo giorno, sì, perché i professori hanno subito... avete l'esame quest'anno. Quinta? Quinta, l'ultimo anno. Finalmente, direi. Quattro anni di scuola. Beh, l'ultimo anno si inizia, insomma, con... Ho iniziato esami qua, esami là, crediti, già... Il primo giorno già vi hanno parlato? Sì, anche le professoresse nuove, sono misi in testa. È il bello arriva alla fine. È troppo, è esagerazione. Il sole ci porta ad andare ancora al mare. È normale. Eh, vabbè, sì, questo sì, questo... Il mare è normale. Siamo grandi, siamo responsabili e sappiamo che purtroppo ci dobbiamo mettere a studiare. Questo me lo dici perché c'è la telecamera. Eh, certo che... È normale, se ci guardano, è normale. Dove siete? Ballo. Celle di Bulgaria è famoso, cioè, lei mi raccomando, 1200 persone. Buongiorno ragazze, primo giorno di scuola. Sì. Quale istituto? Ragioneria. Come è andata? Bene, bene. Sì? Sì, sì. Cosa si fa il primo giorno di scuola? Eh, si conoscono i professori. Ah, professori nuovi? Sì. L'avete cambiato? Sì, tutti nuovi. Che classe? Secondo. Secondo anno. Allora, finita l'estate si ritorna tra i banchi? Sì, sì. Con quale animo? Eh, un positivo. Positivo, molto. Positivo? Sì, sì. Ma già hai compiti il primo giorno? No, no, no. Almeno quello vi hanno risparmiato. Sì, sì. Voi? Io faccio il primo. Ah, il primo superiore? Eh, è un'esperienza nuova. Sì, rispetto alle scuole medie, sì, insomma, come ve l'aspettate questa scuola superiore? È stata bellissima. Il primo giorno? Bellissimo. Cosa vi hanno fatto fare? Eh, ci hanno spiegato le regole di cosa dovevamo fare nel corso dell'anno. Primo giorno, primo anno, scuole superiori? La prima? Sì, il primo superiore. Cosa ti hanno fatto fare? Vabbè, ci hanno accolto, hanno spiegato il regolamento e poi abbiamo conoscito i vari professori. Abbiamo fatto conoscenza anche tra di noi. Auguri. Grazie mille. Voi siete tutte di? Marina di Camerota. Andiamo ancora al mare a Camerota? Sì, sì, a voglia. Oggi andiamo al mare? Sì, sì. Sì.